Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape Albania, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e sarò in compagnia degli ascoltatori di Radio Travel Albania per questa mezz'ora. Ciao ragazzi, sono Alessandro, dell'etichetta italiana Vitek Records. Ciao, siamo Bambuso. Ciao, siamo Pastor Red. Ciao, sono Zaluca Di Bonito. Ciao, siamo Hardless Jet. Ciao, sono Maciano McConey. Sono Valeria Marulli, della band Mistura Loca. Ciao, siamo Postura. Sono Quello D'Arezzo. Ciao, siamo Untuned. Hello, this is Ambra Rakes, and I have a nice trip with Radio Travel. Let's rock! Për shëndetje, un jam Adi Basha, dretori programacionit të Radio Travel, dhe kjo është Vitek Tej. Një program më muzik indie rock në partneritet në Vitek Records, që transkriptohet nga 80 radio në dëndet të ndryshpë dhe botës dhe ekskruzivisht për Shqipërin në Radio Travel. This is Vitek Tape, show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e staro in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Il terzo occhio, Alternative World Band, proveniente da Siracusa, presents Memo Twist. Demoja, democrazia, 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 tu parli il twist. Il daambling cerello, mi trulla, mare testa in panz civilization. Tu non giocare alla, soce mare, intanto non ti voto pių. Mi nutro d'aria, demBraia. Ben iruobit interaaria, anche se sei piccola. E' un'emocrazia più malattista Bona l'ener, populista, così vivo all'artista 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 Grazie a tutti 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 Follow the moon Grazie a tutti Follow the moon Follow the moon Follow the moon Grazie a tutti Grazie a tutti Follow the moon Grazie a tutti Grazie a tutti Marco De Luca Grazie a tutti 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 Grazie a tutti